ok siamo in live ok sto iniziando attenzione eccoci qua e saluti ragazzi ben venuti in questo bellissimo video in compagnia di il nostro stefanino allora speriamo che funzioni altrimenti madonna come uno dei pochi ok eccoci qua e saluti ragazzi ok perfetto 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 aspettiamo che torni il nostro polar warriors così possiamo giocare prima o poi perderà dai non può vincere ok perfetto perfetto allora intanto ragazzi potremmo un attimo guardare il nostro caramato video cioè diciamo come sta andando e potremmo guardare il live dell'altra volta vediamo che funzioni altrimenti perfetto perfetto aspettiamo che torni il nostro polar warriors adesso possiamo giocare perfetto va beh potremmo invitare qualcuno non so chi perché potremmo invitare anche mike che perfetto se ne ha voglia di venire se ne ha voglia vabbè comunque potremmo guardare un attimo nel negozio oggetti cosa c'è carino carino non è male non mi piace molto come piccone però però una cosa abbastanza gradevole infatti io non mi piace molto come piccone ma non so neanche perché faigo 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 questo molto faigo george si già erger faigo e se devo dire la verità che è abbastanza carino come personaggio così molto carino a parte questo non so neanche questo aspettiamo che torni tanto ci metterà pochissimo ho fatto una singola c'è dovrebbe tornare da un momento all'altro intanto guarda guarda un attimo la live scusate potremmo in mezzo perché a parte questo non so perché aspettiamo che torni tanto ci metterà pochissimo ha fatto una singola c'è dovrebbe tornare da un momento all'altro ok perfetto perfetto oh no eccolo qua forse è andato via no no non ci credo no dai impossibile no ha chiuso direttamente il gioco hai capito io credo di aver messo un privato quindi allora ragazzi tra oh no allora privato allora io metto pubblico da ora è pubblico quindi chi vuole entrare entri tanto non entra nessuno che lo so un spettatore ciao chiediamo se posso fare una partita singola chiediamo a chi ci sta scrivendo se posso fare una partita singola vediamo cosa ci dice sto scrivendo boh non lo so a parte questo ahhh wifi non prende dai raga se vuoi fare non prende giuro che mi suicido tanto non c'è altra scelta dobbiamo il nostro obiettivo è arrivare a 100 vbac ovviamente grazie a voi potremo arrivarci sicuramente allora eeeh facciamo una 50 contro 50 dai raga su 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 yeah allora dai raga forse no forse allora nel weekend non farò live appunto perchè devo fare vabbè lo sapete ve l'ho detto voglio dirlo di nuovo vai a fare lo stesso allora ragazzi dai chi mi sta scrivendo in questo momento adesso ci guardo un attimo perchè ecco appunto guardo un attimo ragazzi ok va bene vabbè comunque non mi ha scritto niente nessuno questa cosa non mi piace che si ristabilizzi la live perchè altrimenti io non riesco a giocare così su serio non riesco a giocare no no volevi eh volevi vieni qua vieni qua dove stai andando eh vabbè dai raga lol stralol potremo cadere borgo allegro va bene ehm scusate se guardo un attimo la live ma mi serve allora come può vediamo se lagga si mi piace che si ristabilizzi la live perchè altrimenti io non riesco a giocare così su serio non riesco a giocare ehm ok va benissimo dai su anche se lagga ce la possiamo fare allora come avevamo detto picco polare intanto abbiamo trovato questo pistole di colpi al volo questo lo prendiamo al volo torretti mio ok perfetto cos'è questo qui questo che è perfetto questo ci sarà strautile comunque oh perfetto abbiamo trovato una cesta ci saranno anche i colpi ovviamente allora ragazzi prendo questi dai su 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 dai bello ok perfetto ho preso i colpi c'è già da parte del gioco mi sta laggando quindi direi dai raga spero che caso tanto non fa niente a me piace questo scusate ragazzi però ho i miei gusti no ragazzi è una nuova arma no regia no 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 sto per piangere non ho barma meglio meglio non l'ho ancora trovata cioè ok raga dai spammate mi piace per favore perché per sostenere il canale anche se lagg dai raga ce la possiamo fare cosa sono sti rumori strani ho poco per costruire purtroppo purtroppo ok perfetto fucile d'assalto con mirino mi sa che è meglio la vervalber scusate meno o meno per una volta tanto questo non ci serve oh l'aereo sicuramente con questo faremo più bordello sicuramente ma prima dobbiamo trovare le cose perfetto qui c'è cesto no dai che culo che culo della miseria che culo ma dai ragazzi questo si chiama proprio culo altro che dai sul serio cioè allora a parte questa botta di sedere più più aspetta aspetta voglio fare una cosa voglio fare una cosa ok 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 perfetto perfetto boom no levati perfetto dai ragazzi io voglio volare ok sta laggando troppo sinceramente non so se vedete qualcosa ma si chiama proprio lag dei lag dei super lag cioè non ci credo non ci credo si mi guardate da fermo perfetto 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 ehm abbiamo parcheggiato il coso fuori credo che si sia distrutto vabbè comunque c'è una sfera gigante quindi direi che sicuramente là ci sono i cosi allora non so se abbiano aggiunto dei lag dei blu draghi non vorrei dire una cazzata però credo di si ho spiegato solo l'oba non ci credo perfetto qui possiamo volare devo dire la verità che questa cosa di deltaplani mi piace mi piace molto questa cosa di deltaplani di sopra c'è una chest vediamo se ce la faccio perfettamente perfettamente no dai no su serio ok perfetto ok questo è difficile questo è difficile ok no no raga no no non si può fare così ok perfetto 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 scappiamo mi servirebbero i palloncini solo che non c'è gli altri il problema è quello sentite il rumore strano questa arma l'ho usata è da pochissimo che c'è da tipo due settimane no non vorrei dire una cavolata comunque da pochissimo e fa un bordello appena la lanci fa un bordello della madonna mi ricordo che una volta io avevo paura con sta arma cioè una volta non è vecchissima comunque è una bella arma molto utile stralol fa un sacco di headshot quello non c'è da dire quando non batte nessuno in questa arma ok no lagga a parte che ho finito il materiale ok perfetto no 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 non ci credo non ci credo non ci credo porco Ivan porco porco nel quel maledetto boh porco non ci credo non ci credo no raga no way no way raga no way proprio no way no way no way no way no il trope è una bellissima oh bitch yeah sea bitch perfetto beccato no 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 io non è andato così tanto vicino no certo che non so proprio mirare no 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 vabbè almeno abbiamo fatto una kill ragazzi 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 questa cosa della rigenerazione non mi piace poi così tanto mi piace no 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 qui anche 27 colpi quindi ci sta ci sta come non ho neanche ucciso tra parentesi e abbiamo perso ragazzi e vabbè e vabbè però è stata una bella partita devo dire la verità bella bella bellissima partita allora spero che qualcuno voglia di giocare con me cioè spero tantissimo comunque allora roberto tu devi assolutamente mettere un like in questo momento cioè no no ok l'avamo detto picco polare questo l'opinione grazie ragazzi ragazzi questa cosa della rigenerazione non mi piace qui così tanto oh bitch yeah oh bitch yeah sea beach oh beach yeah sea beach